Usare il sistema di autoprestito è molto semplice. Quando si vogliono prendere dei libri in prestito, per prima cosa bisogna avvicinare la tessera della biblioteca al lettore. Adesso si può rimuovere, il sistema riconosce la persona e adesso si possono mettere i libri uno per uno sul tappetino. Ecco, il primo libro è stato riconosciuto, adesso un secondo. Fatto, in questo caso ne prendiamo in prestito tre, terzo e ultimo libro. A posto, adesso si ritira il libro e si sceglie di stampare la ricevuta oppure no. In questo caso si stampa la ricevuta. E l'operazione è terminata. Per restituire i libri non c'è bisogno della tessera della biblioteca. Basta avvicinarsi alla macchina, selezionare la funzione di restituzione, presentare i libri sul tappetino uno per volta e a operazione conclusa scegliere se stampare la ricevuta oppure no. In questo caso si è scelto di non stampare. Si posano i libri sul banco e l'operazione è terminata.